Pochi giorni all'inizio della scuola, al ritorno sui banchi da parte di migliaia di studenti e ancora le regole non sono certe. Gli inizi dell'anno scolastico sono imminenti e alcune di queste regole potevano e dovevano essere definite già da tempo. Fino ad oggi la distanza di un metro in condizioni statiche sembrava una regola granitica, poi questa regola è venuta meno se si indossano le mascherine, quindi in qualche misura è venuto a saltare uno dei presupposti in base al quale noi presidi avevamo definito la capienza delle aule e quant'altro. Anche sul tema delle mascherine da far indossare agli studenti oltre i sei anni c'è nell'area un dietro front. Anche un medico famoso come Galli ha detto che sono assolutamente non sopportabili per i bambini, persino in parte controproducenti anche sul piano della salute stessa, quindi questa sembra essere una decisione che deve essere rivista in questi stessi giorni dal comitato tecnico scientifico. Sul fronte insegnanti e personale ATA, dopo gli annunci del Ministero sulle assunzioni, Artini conferma che il personale arriverà, ma c'è da fare una corsa contro il tempo per la verifica delle loro idoneità e il numero potrebbe non essere sufficiente. Sicuramente non lo sarà, si tratta di vedere in che misura non sarà corrispondente a queste stesse aspettative. È impossibile non osservare che le risorse sia di personale sia le risorse di spazi dovevano essere preliminari alla progettazione portata avanti dalle scuole.